Maria Basciano, assessora alla pubblica istruzione politica e sociale del comune di Bacola. Allora sono arrivati dei finanziamenti per i bambini del territorio. Che cosa ne farete? Sì, recentemente abbiamo avuto un primo accredito di 66.000 euro per i centri estivi. Sono stati accreditati dal Dipartimento per le politiche della famiglia e delle pari opportunità. Tutto questo rientra in un discorso di recupero di quei momenti di gioco, di socializzazione, di sport che i nostri bambini non hanno potuto vivere durante il lockdown. Con questo finanziamento quindi voi chiedete alle strutture presenti sul territorio di programmare delle attività per questi ragazzi? Assolutamente sì. Ci siamo immediatamente adoperati e già ieri abbiamo pubblicato sul sito del comune un avviso pubblico per richiedere a tutti i soggetti presenti sul territorio di presentarci dei progetti in ambito educativo, ludico, sportivo, didattico per poter inserire in questi percorsi tutti i bambini del nostro territorio che ne hanno titolo. Assessore, c'è già in corso la preparazione di un altro progetto per ottenere ulteriori fondi per dare la possibilità ad altri bambini del territorio di usufruire dei campi estivi? Sì, ci sono ulteriori possibilità. Sempre il Dipartimento per le politiche della famiglia e delle pari opportunità ha portato avanti un avviso per finanziare dei progetti ed educare. Questi progetti hanno le finalità affine a quelle che già sono presenti nei centri estivi, solo hanno uno svolgimento più lungo sino a dicembre. Anche in questo caso ci siamo immediatamente avviati ed abbiamo portato un avviso pubblico per cercare dei partners che insieme a noi ci aiutino a confezionare un progetto credibile, serio e importante che poi realizzeremo con i partners laddove ci arrivino questi finanziamenti così come speriamo, perché i bambini hanno necessità di recuperare la sofferenza dei mesi della chiusura delle scuole ed avere tutte le opportunità possibili di socializzazione. In questo ci stiamo spendendo molto. Grazie. Grazie.